Ed eccoci qui, prima partita dei mondiali, Giappone che batte la Colombia per 2 a 1, altra sorpresa parziale, diciamo sorpresa via, anche se il Giappone ce la dico non è malissimo, mi ricordo anni fa quando ero allenato da Zaccheroni mi pare vinse anche la Coppa d'Asia se non sbaglio, quindi tanto male non è, qualche talentino ce l'ho, quindi sorpresina via, anche se devo dire che la Colombia non mi è piaciuta parecchio, ha fatto più il Giappone, infatti ha vinto meritatamente questa partita, ora ci sarà il Senegal, mi pare, Senegal-Polonia, mi pare, alle 17, e chiudiamo questa prima giornata dei campionati mondiali, in pratica l'ho vista tutte, non ho mancata una, magari qualcuno l'ho vista con meno attenzione, qualcun'altra con più attenzione, ma vabbè, beh, appuntamento quindi fra poco per Senegal-Polonia.